Io ho fatto una richiesta che tiene conto di un percorso, il ponte grazie anche al progetto di restauro sta diventando un monumento nazionale quindi quell'area sta cambiando in termini di percezione. 20 anni fa si passava con le auto, adesso non si può più passare con le auto quindi cambiano le situazioni, chi governa ha il compito di prendere atto dei cambiamenti quindi io credo che una riflessione debba essere fatta in questo senso, non è stata fatta prima perché è un percorso. D'altra parte mi chiedo, visto che Zonta è stato per 5 anni assessore 5 anni fa, come mai lui non fosse mai intervenuto per restaurarlo il ponte quando stava andando giù quindi voglio dire c'è un tempo per tutto, adesso il tempo è giusto per fare questa riflessione. Il tema di cosa vogliamo diventi quell'area una volta restaurato visto che adesso Zonta ha il compito di portare a termine un restauro che abbiamo iniziato noi è un tema che deve essere in qualche maniera discusso, troppo semplice dire c'eravate voi prima, insomma c'è un percorso in Ittina e adesso ci sono loro. Quello è uno spazio che adesso verrà restaurato, che diventerà monumento nazionale, io parlo dell'area di passaggio, l'area di passaggio dovrebbe essere un'area che in qualche maniera recupera una sua sacralità legata appunto al percorso di restauro che è in corso e al percorso che lo sta riconoscendo come un monumento nazionale, tutto qua poi se si vuole si discute ma altrimenti non c'è un problema, decideranno loro insomma.